Grazie 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 Noi siamo venuti qua Ma come gli altri I buffoni come gli altri. Allora, gabierate, ora 10.30, come lì 15.00. Ciao, tuto! Saluto io. Grazie. Come fai a mettere la rumpanata? Buongiorno a fare un cazzo di corsa. Ma vuoi avere le cazzo di corsa? È lì, dietro Bè. No, Bè. Buongiorno a fare un cazzo di corsa. Baresi? Non c'è? Non c'è? Hai ragione. Non c'è Baresi? E vieni un po' più vicino. Non c'è Baresi? No, no. O dai facciamola qua. Dai vieni per l'arola. Sì, che va bene! Ma io volevo qualche altro piano. Come vi scattate? No. Figinati! Come non può! Eh, ma vedi, io che c'è in seguito. E' un'altra festa, eh? E' un petto di bolo. Lo dirà, che figo? Dovevamo fare lo stisciolo. Ma il sole dov'è? Ma il sole dov'è? E' un'altra festa, qui. Oh, oh, oh. Dai, Walter. Walter! Walter! Ma abbiamo sentito su. E' un'altra festa. E' un'altra festa. Ma quello è l'altra parte? Quattro, siete l'acqueda di camera. Ma le vada mia, c'è un'altra festa. Oh, scherzo, cazzo! Ma non c'è un tifo! Vedi che si sta avvicinando? Si Di l'altro Qual è? Qual è che hai visto e tu hai? Chi? Vitanza L'ultimo dove c'è il cavalletto Sinistra L'ultimo a sinistra, si Quella che c'ha la borsa in mano Mi fai fare un autografo della tipa con i pantaloni con le franze? Ah, spero Anche l'indie Trofeo Stefano, al bambino qui, Stefano Sotto lì Come non è una? Sotto lì Vai, Bacchio! Vai, Bacchio! Grazie.